Apre il prossimo autunno il cantiere per realizzare i due parcheggi di scambio situati agli estremi est ed ovest di Taranto. A Cimino, sul versante orientale, al quartiere Croce, nella parte occidentale della città, è prevista la realizzazione di spazi di sosta per auto ed autobus, viabilità di servizio, edifici per i servizi, un impianto di pubblica illuminazione. Qui avverrà lo scambio tra mezzi privati e mezzi pubblici e da queste aree parcheggio partiranno due linee veloci attraverso percorsi protetti che porteranno nel centro della città. L'opera rientra in area vasta ed è stata interamente finanziata. L'appalto, dopo i controlli dei requisiti, è stato affidato in via definitiva all'impresa Betonbit di Francavilla Fontana in associazione con la ditta Tommaso Mele. Le due aziende dovranno portare a termine l'intervento in 300 giorni. La ditta si è giudicato l'appalto offrendo un ribasso del 45,2%. Dai 6 milioni a base d'asta l'importo da erogare è sceso a 3 milioni 382 mila euro, dei quali 150 mila sono gli oneri per la sicurezza.